Bonazza nostra, la Lega non ha bisogno di armarsi, noi siamo sempre armati a buona manico! Ma è stata una cena tra amici, è stata una cena di relax. Certo cercheranno di tornare, certo si maschereranno, ma alla fine vedrete che sarà valsa la pena di fare la rivoluzione per via democratica, fermi uomini! Non è che siamo in vacanza, però questo paese cos'è che ha di grave? Oh la madonna, è pieno di debiti no? Lega, 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 Lega! Ci facciamo portare nella cittadella del potere e poi apriamo lo sportello e usciamo, spada in mano a segagli il collo a tutti questi porci mafiosi! Sanamma di verti, nani, nani! Io o da altri, non so, gli dice che bisognerebbe dargli una sbrufata di mitra, come dicono qui. Esattamente, è quello che pensano tutti i cittadini per bene del nord e forse non solo del nord. La Lega avanzerà, baionetti in canna, paese per paese, villaggio per villaggio andremo a slidare, anche nel profondo sud la partitocrazia!